Allora Giuseppe si è un po' arreso perché anche lui è fuori allenamento e queste sono salite che se non si è un po' allenato ti pianti, non c'è niente da fare, guarda. Dai che va bene lo stesso! Purtroppo la bicicletta è fatta così, per quelli che non hanno allenamento. Ecco qua, anche Giuseppe è scollinato, adesso prendiamo la discesa e via. Credo sia importante trovare la linea, riconoscere dove sta la linea tra orgoglio e inconscienza. Usiamo questa bella parola.